Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno a tutti, sono Elena Sant'Agata e oggi, per Alma Poesia, vi leggerò dei versi tratti dalla raccolta L'ospetto visibile di Antonio Francesco Però. Caduta. Quindi è cieca, e questa cicità per ora la chiamiamo attesa. C'è una base, la certezza no, è un'altra cosa. Prima ancora di fare la corda serve sporcarsi le mani. Ora la prova si incentra sulla differenza tra ricordo e chilometro, che al buio sono uguali, sul senso della caduta, sono tentativi. Social Podcasting. Your Digital Friends.